Ed eccoci qua, cari effenauti, e non anche oggi, però incastrati in un dilemma di quelli grandi, enormi. Infatti anche io sono stato un po' combattuto se fare questo video oppure no. Farlo o non farlo. Farlo o non farlo. Ecco, quella foto lì. Quella foto bellissima che avete scattato, che vi sembra perfetta sia a colori e anche in bianco e nero. Però non riuscite a decidere. Che faccio? La faccio diventare un classico in bianco e nero oppure la lascio esplodere in tutti quanti i suoi colori? Chi di noi, appassionati di street photography o qualsiasi altro genere fotografico, non si è trovato qualche volta in questa situazione? Perciò iscrivetevi al canale e seguitemi fino alla fine che vediamo di capire insieme come decidere. E non dimenticate ovviamente di accendere la campanella e commentare sotto con la terra dei cachi. Oggi va così. Oggi apro le tende e vi porto nel mio mondo, svelandovi come lavoro, facendovi vedere esattamente il percorso mentale che compio quando mi trovo davanti alla scelta. Colore o bianco e nero. Colore o bianco e nero. Colore o bianco e nero. Soprattutto nella fotografia di strada. Sperando ovviamente che questo vi aiuti a fare delle scelte più creative quando siete di fronte a questo video, ma soprattutto che questo vi aiuti a pensare non come me, ma neppure come gli altri, ma soltanto per conto vostro. Perché, attenzione amici miei, prima di immergerci in questo discorso dovete ricordarvi una cosa soltanto. Nessuno può o si deve permettere di sindacare. Quando si tratta di scelta, di modifica delle proprie foto, non esistono scelte giuste o sbagliate. Voi dovete sempre e solo seguire il vostro istinto, il vostro gusto e le vostre emozioni. Quello che dirò oggi è soltanto quello che funziona per me e magari chissà, se vi sentite in dubbio o in difficoltà, potrebbe darvi magari una spinta. Parlando di questo argomento, io non posso non iniziare che da una citazione di Oterbridge che fa riflettere me come penso anche tanti altri. Una differenza molto importante tra la fotografia a colori e quella monocromatica è che in bianco e nero suggerisci, a colori a fermi. Molto può essere suggerito, ma un'affermazione richiede certezza, assoluta certezza. Ecco, questa frase descrive perfettamente come vedo io la fotografia a colori. Quando Steve McCurry era ancora un pivello, non era diventato uno dei fotografi più famosi del mondo, è riuscito ad incontrare il suo idolo Cartier-Bresson a Parigi. E lui, Cartier-Bresson, gli disse Steve, usa il colore per i tuoi lavori commerciali, ma per le tue fotografie personali utilizza esclusivamente il bianco e il nero. McCurry, da buon effenauta anche lui, non ha seguito quel consiglio e visto la carriera che ha fatto, diciamo che ha fatto pure bene, ma il motivo per cui non ha ascoltato il consiglio di Bresson non è stato per supponenza oppure per presunzione, ma soltanto perché il mondo è a colori. Noi consideriamo i colori come fossero dei semplici attributi dei soggetti, proprio come ce li insegna la scuola fin da bambini. Quindi le foglie degli alberi sono verdi, il cielo è blu, il campo di grano è giallo, il cuore rosso e Super Mario ha i colori del cosenza calcio. E' proprio per questo motivo però che noi non percepiamo la fotografia a colori come arte, ma la consideriamo quasi una semplice fotocopia della realtà. E quindi il fotografo ha una grande responsabilità, deve fare in modo che i colori diventino il soggetto dell'immagine, così come hanno fatto Franco Fontana con i suoi paesaggi saturi, oppure Alex Webb. Quando perciò decidi di giocare con i colori, devi sempre esattamente sapere perché li stai usando e come li stai usando. A differenza del bianco e nero, con i colori stai dicendo molto di più di quello che c'è nella fotografia, ma stai dicendo anche come ti fa sentire quella fotografia. Infatti a seconda dei colori puoi creare un'atmosfera particolare per chi guarda e non solo, perché i colori possono anche fornire più contesto su quello che sta succedendo in quel momento. Quindi quando io personalmente sono indeciso se utilizzare il colore o il bianco e nero, tengo sempre a mente tutti questi fattori. Mi pongo una domanda importante, cioè il colore è un elemento principale della mia foto? Se sì, sceglierò di editare la fotografia a colori. E quando dico colore come elemento principale, intendo che è proprio il colore dell'immagine che mi ha spinto a scattare la fotografia. Per esempio, in questa immagine qui c'è una donna con un vestito rosso. Quando ho visto quel vestito ho sentito un boom ed è per questo che ho scattato la fotografia. Quindi, come vedete, il vero protagonista di questa fotografia è il rosso, non è più la donna che chiama il taxi. Ora, mentre io stavo scattando la mia fotografia rossa, ero consapevole del ruolo principale del colore, ma ci sono anche volte in cui scattiamo fotografie e soltanto dopo ci accorgiamo che il colore ha un ruolo da protagonista. Perciò non dimenticatevi di chiedervi se il colore è un elemento chiave o no della fotografia. Questo potrebbe sembrare banale, anche ovvio, ma quando sei uno street photographer come me, con un mare di scatti da valutare ogni giorno, dettagli come questo possono anche sfuggire. Ma c'è ancora un'altra domanda che personalmente mi pongo quando faccio la scelta, e cioè il colore fornisce un contesto. Il colore arricchisce la storia che sto cercando di raccontare. Questo aspetto può essere ancora più importante, ma è anche più facile da trascurare mentre stai modificando le fotografie. Se il colore contribuisce a dare contesto alla fotografia, quella potrebbe essere una circostanza in cui forse il colore è meglio del bianco e nero. Ma alla fine, come ho già detto, la decisione spetta sempre a te. Guardate per esempio questa fotografia qui in bianco e nero. Riuscite a dirmi se l'ho scattata in primavera o poi in autunno? A meno che non la si guardi attentamente, diciamo che è un po' difficile. Ma se la trasformo in colore però, vi do un indizio in più sul periodo dell'anno in cui l'ho scattata. C'è tanto verde, questo suggerisce ovviamente che è stata scattata in primavera e non in autunno. E allo stesso tempo la foto diventa più vivida, più viva, più radiosa. E questo mi porta anche al prossimo punto, quando scelgo. E cioè il colore mi aiuta a creare esattamente l'atmosfera che desidero? Questa potrebbe essere proprio la ragione principale per cui scegliere il colore al posto del bianco e nero dalle nostre fotografie. Il colore può avere un impatto significativo sull'umore che una foto trasmette. Probabilmente ne avete già sentito parlare altre volte della teoria del colore e potrei dedicare a questo argomento addirittura un video intero. Anzi, se vi interessa, ditelo e scrivetelo nei commenti. Ma per farla breve, l'uso del colore, l'uso di diverse combinazioni di colori, può influenzare l'umore dello spettatore e addirittura dirigere la sua attenzione verso elementi differenti alla fotografia, semplicemente giocando con le combinazioni dei colori tra di loro. Ma ricordate però che, come ha suggerito proprio Outerbridge, la chiave è solo la certezza. Dovete perciò essere intenzionali, coscienti nelle vostre decisioni, perché possono cambiare completamente il modo in cui una vostra fotografia viene percepita. E io vi sento. Io lo so cosa state pensando, Tullio, ma tutte queste pippe. Io non ho mai veramente pensato così quando scelgo di fare una fotografia a colori. Ecco, probabilmente non lo fate in modo cosciente, così come ne stiamo discutendo adesso in questo video, però secondo me lo fate già a livello inconscio, senza realmente realizzare il perché state utilizzando il colore per le vostre fotografie. E quindi, pippe a parte, spero che con questo video vi sia un po' più chiaro tutto, tutto il ragionamento, e che ora possiate essere un po' più coscienti anche nell'uso del colore. Io ho il difetto di ripetermi, lo sapete. E infatti ho detto più volte, come le fotografie che durano nel tempo sono proprio quelle fotografie che gratificano chi le guarda, rendendolo un partecipe attivo nel processo di interpretazione dell'immagine, portando le proprie esperienze, la propria vita, nella sua lettura personale. Uno dei motivi per cui la fotografia è in grado di mantenere tanta fluidità di significati, pur restando ovviamente rappresentativa, è che molti dei suoi componenti sono completamente soggettivi, proprio come il colore. I colori, infatti, non hanno sempre un significato intrinseco e universale. Sono legati al nostro mondo culturale, alla tecnologia, alla geografia, agli abiti. Persino il luogo e il meteo modificano la luce con cui noi stiamo guardando. I colori ci legano al luogo e al tempo e un continuo dialogo con la storia, i cambiamenti culturali, le nascite e purtroppo anche i morti. Proprio adesso, infatti, stiamo assistendo a un cambiamento che coinvolge l'intero pianeta. Tutte quante le luci rosse e arancioni a vapore di sodio dei lampioni vengono sostituite a poco a poco con i lampioni a LED che sono a basso consumo e a luce fredda. Questo è un esempio di come la fotografia notturna ricorderà sempre un tempo nella storia che è venuto ma che se n'è andato, proprio come è avvenuto già per i lampioni a gas che sono scomparsi prima che la fotografia a colori ce li potesse far ricordare. Adesso però viene il difficile, perché cosa possiamo dire del bianco e nero? Quando è che dovremmo optare per il bianco e nero invece del colore nell'editing delle nostre fotografie? Se la fotografia a colori è perfetta per descrivere la realtà, il bianco e nero ha il potere dell'astrazione, che riesce proprio a spiegare però la realtà. Quando si converte una fotografia in bianco e nero, ci si libera in un certo senso dalle informazioni che dà il colore e permette perciò a chi guarda di completare queste informazioni con la propria vita, con il proprio modo di vedere. Devo aspettare finché non c'è qualcosa che mi tocca il cuore. Se non senti nulla quando fai click, non dai nulla allo spettatore a cui rispondere. Questo lo diceva Fanò. Oggi fotografare in bianco e nero può essere un'occasione preziosa per confrontarsi veramente con l'energia di un soggetto e la nostra capacità di saperlo rappresentare. Può capitare spesso che un buon risultato fotografico sia dato soltanto alla presenza di alcune cromie che sono molto azzeccate. Magari il soggetto non è particolarmente bello, però i colori che sono presenti in quel momento e con l'aggiunta ovviamente di una post-produzione efficace contribuiscono a creare una fotografia convincente, artisticamente interessante, bella, anche bellissima. Sicuramente lo sguardo ne trarraggiavamento, ma può darsi che la mente però non risulti molto sollecitata. E sono anche sicuro che in molti oltre me avrete notato fotografie così, belle, bellissime, ma fino a quando ce le ricorderemo? Fotografare in bianco e nero vuol dire innanzitutto traversi rapportare con le forme, la prossemica, le superfici e tutto quello a cui il pensiero riesce a dare un significato. Nell'ambito della fotografia di paesaggio, per esempio, dove di solito si è abituati a utilizzare il colore, fotografare in bianco e nero può essere una strategia, per esempio per svelare qualcosa che apparentemente è nascosto e una chiave di lettura estraniante, ma forse proprio per questo più capace di rivelare quello che è la profondità, di connettersi con quel luogo. Perché un paesaggio fotografato in bianco e nero vive soltanto delle forme che lo compongono. Poi nel reportage oppure nella street photography, fotografare in bianco e nero sicuramente costituisce una soluzione interessante. Perché mai come in questi ambiti è importante far emergere il soggetto, elevandolo quindi una dimensione quasi extra quotidiana, capace perciò di evidenziare tutte quante le sue particolarità. Si tratta di contesti in cui è fondamentale il tipo di relazione che il fotografo riesce a instaurare con il luogo in cui si trova, oppure con il soggetto che ha scelto di inquadrare. Il bianco e nero continua ad affascinare anche oggi, e quindi essere impiegato con tanta frequenza, diciamo così, anche nel campo della ritrattistica. Perché oltre alla possibilità di creare un'immagine il cui volto mantiene tutta quanta la sua forza espressiva, e viene quindi svincolato dal contesto in cui è immerso, è come se ritratto in bianco e nero fosse senza coordinate spazio-temporali. Fotografare in bianco e nero però vuol dire misurarsi con un universo che è esente dalle suggestioni che vengono offerte dal colore. È quindi molto importante saper osservare con attenzione i soggetti selezionati, così da riuscire a cogliere le linee, i volumi e qualunque cosa che per noi è evocativa. Ecco perché io scatto già in bianco e nero, perché per me è un esercizio che continua ad aiutarmi a non lasciarmi mai disturbare dai colori. E poi la fotografia in bianco e nero costringe anche l'osservatore a un lavoro di cooperazione con la foto. L'assenza del colore, infatti, suggerisce a chi guarda di completare quel mondo che è fatto soltanto di grigi, con il proprio pensiero, con il proprio vissuto. È un po' come la cooperazione che si instaura tra il lettore e il libro, perché spesso una carenza di informazioni può perfino condurre a un maggiore fermento creativo nella mente di chi guarda, ed ecco perché alcune fotografie diventano immortali. Scendendo però adesso più nella pratica. Una delle ragioni per cui personalmente scelgo il bianco e nero è quando desidero focalizzare l'attenzione su un soggetto. Questa è sicuramente la mia motivazione principale per utilizzare il bianco e nero e credo anche che molti fotografi di strada facciano lo stesso. Nella street photography spesso, ma guardatevi qui sopra il video dove parlo di questo argomento, noi lavoriamo con immagini che ritraggono persone. E il più delle volte queste persone sono proprio quelle su cui noi vogliamo che l'osservatore si concentri. Il bianco e nero in questo è eccellente perché attenua l'immagine. E dato che lavoriamo soltanto su gradazioni di grigio, quando guardiamo siamo indotti a concentrarci sulle persone oppure sui soggetti, o ancora su quello che è interessante nella fotografia, e questo a prescindere dal colore. E in più, con una immagine in bianco e nero si riesce anche a delineare meglio la pelle e le emozioni dei volti delle persone, o almeno questo, secondo la mia esperienza. Prendete per esempio questa fotografia qui. Io penso davvero che una fotografia in bianco e nero possa davvero esaltare le emozioni che si legge sui volti delle persone. Oltre all'aspetto estetico, nella street photography una delle ragioni principali per cui i fotografi di strada contemporanei scelgono il bianco e nero e dirigere proprio l'attenzione verso il soggetto. Io, in questa fotografia, avrei potuto tranquillamente utilizzare il colore o il bianco e nero, senza grandi distinzioni, perché penso che entrambi avrebbero funzionato nella foto. Nella versione a colori, infatti, non ci sono molti colori differenti e quindi non distrae, ma non fornisce nemmeno un vero e proprio contesto soltanto perché ha colori. In bianco e nero questa fotografia funziona altrettanto bene, ma a mio avviso funziona un po' meglio, perché dirige l'attenzione verso gli occhi del ragazzo. Proprio perché in bianco e nero c'è molto più contrasto nella fotografia che rende gli occhi del ragazzo molto più evidenti in questa immagine, molto più coinvolgenti, quasi magnetici. E quindi sì, questa è la ragione per cui ho scelto il bianco e nero per questa fotografia, anziché editarla a colori. Un'altra ragione per cui si può scegliere il bianco e nero è per mettere, per esempio, il risalto alla composizione, perché mentre il bianco e nero è sicuramente un'ottima scelta per focalizzare l'attenzione sulle espressioni del viso dei soggetti, io penso anche che un'immagine in bianco e nero possa dirigere l'attenzione verso le linee e le forme che sono presenti in una fotografia, che nella maggior parte dei casi contribuiscono alla composizione dell'immagine, o nel caso di questa immagine. Ecco perché spesso io tendo verso il bianco e nero quando si tratta di fotografia architettonica, oppure di foto in cui le persone interagiscono con l'architettura. Perché trovo che il bianco e nero accentua il contrasto e quindi induca chi guarda a concentrarsi su come tutte quante le linee e le forme interagiscono tra di loro. In parole povere, il bianco e nero può essere vantaggioso quando si lavora con luci intense, oppure immagini che abbiano molte ombre. Le foto con forte contrasto di luce e ombra sono spesso quelle in cui io finisco per scegliere un ritocco sempre in bianco e nero. Dal momento che sto già lavorando con questo contrasto tra luce e ombre, il bianco e nero non fa altro che enfatizzarle e secondo me ne risulta una fotografia molto, molto più interessante. Quindi se anche tu hai delle fotografie di street photography dove stai lavorando con delle siglette di persone oppure con luce intensa o persone che emergono dalle ombre, queste immagini in bianco e nero forse sarebbero più interessanti, forse funzionerebbero di più. Ma adesso però, amici miei, dobbiamo anche parlare di una questione super seria. Ci sono due casi in cui il bianco e nero ci viene letteralmente in soccorso e cioè quando il colore che vogliamo dare alla fotografia proprio non ci esce è nelle fotografie ad alti iso. Pensate per esempio a luoghi ombrosi, notturni, con luce e fioca, quel genere di ambientazioni da film noir per intenderci. Ecco proprio lì, quando il colore diventa un rebus, allora il bianco e nero ci viene in soccorso. Ma visto che so anche che molti di voi conoscete già questo trucco, passiamo subito al secondo caso, cioè quando un amico dispettoso ci viene a fare visita e lui è il rumore digitale. Avete presente quando proprio vuoi scattare quella fotografia lì e per riuscirci sparia zippa gli isola la fotocamera? Ecco, il risultato può sembrare come se una tribù di formica e colorata avesse deciso di organizzare un rave party proprio sulla nostra fotografia. Ma noi, che siamo effenauti e non amiamo essere sconfitti, cosa facciamo? Facciamo uso del bianco e nero, pronto a trasformare quel festival di rumore in una texture raffinata, quasi come fosse la grana di una pellicola. Quindi, signore e signori, il bianco e nero non è soltanto un'opzione retro, è una vera e propria bacchetta magica che è capace di trasformare i nostri momenti più grigi, non solo letteralmente ma anche figurativamente, in delle vere e proprie opere d'arte mozzafiato. E questo non è forse uno dei motivi per cui noi fotografiamo? Ecco, questo conclude, adesso battute a parte, in larga scala il mio processo decisionale quando devo scegliere tra il colore e il bianco e il nero. Come ho detto dall'inizio, l'editing è davvero una questione di preferenze personali. Nessuna delle cose che ho appena detto è necessariamente la scelta corretta e sicuramente non è la Bibbia. Però credo fermamente nel concetto di intenzionalità quando si tratta di apportare delle modifiche creative alle nostre fotografie. Il flusso di lavoro e il processo di editing per i fotografi è quasi altrettanto importante della fase di scatto. Questo è il momento in cui puoi anche tu personalizzare la tua fotografia ed è per questo che dico che è importante essere intenzionali, consapevoli, coscienti quando si tratta di modificare le foto. Spero ovviamente di averti dato qualche spunto interessante anche a questo video, perciò lascio un commento qui sotto e condividi con me anche alcuni dei motivi che ti fanno scegliere il bianco e il nero rispetto al colore perché sono molto interessato e molto curioso di imparare qualcosa di nuovo. Quindi cosa fate? Adesso mettete like al video, condividetelo, iscrivetevi e clic 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 clic. Ciao e alla prossima! Ciao!